Care amiche e cari amici, care sorelle e cari fratelli, Gesù è il Signore. Innanzitutto mi presento, sono Giampiero Cicchelli, coordinatore regionale del rinnovamento dello Spirito Santo Lombardia. Vi raggiungo per condividere con voi una grande gioia. Anche quest'anno lo Spirito Santo ci invita a salire sul monte per fare esperienza dell'amore di Gesù, quell'amore che plasma, che forma, che illumina, che dà orientamento alla nostra vita. E qual è questo monte sul quale lo Spirito Santo ci invita a salire? Le scuole regionali estime. Un tempo di grazia, un tempo di benedizione, un tempo di guarigione, di consolazione, un tempo per fare esperienza dello Spirito e ripartire insieme. Per quanto riguarda le scuole regionali estive, ecco, vedranno impegnate tutte le regioni in un arco di tempo che va da giugno a settembre. Ad esempio la Lombardia sarà impegnata il 3-4 luglio a Caravaggio, poi 4-5 settembre, 25-26 settembre e così via. Allora, qual è il tema che sta a fondamento di queste scuole? È tratto dalla seconda lettera a Timoteo al capitolo primo, versetto 14. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Con l'effusione dello Spirito ripartiamo. E ora vorrei, ecco, dare fondamento, ma esplicitando proprio il senso delle scuole regionali estive attraverso le parole del nostro fratello e presidente del rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez. Stiamo vivendo gli effetti di una rinnovata Pentecoste, frutto di un'intensa e comunitaria preparazione. Davvero, lo Spirito Santo abita in noi e ora ci abilita a ripartire. La sua presenza ci porta il rinnovamento nello Spirito Santo e ce lo consegna esigente e sempre nuovo a ogni nostra invocazione e convocazione. Sì, è il rinnovamento nello Spirito Santo il bene prezioso che ci è stato affidato. Sarà motivo di gioia e di conforto stare insieme, pregare, discernere, fare fraternità, affrontare uniti il cammino che ci attende con tutte le meravigliose sfide che esso riserva dinanzi a noi. Che meraviglia, veramente che meraviglia. Parole che toccano il cuore, parole che ci predispongono a vivere al meglio in pienezza queste scuole regionali e stime. Per fare questa esperienza dello Spirito, di una nuova Pentecoste, di una nuova effusione, per ripartire insieme e affrontare, da testimoni veri del Vangelo, queste sfide, ma non con paura e turbamento, ma nella gioia. Amen. Alleluia.